Noi rimaniamo a Pescara anche con il collegamento social, andiamo da Luca Pompei che ci parla dei lavori di riqualificazione di piazza Alessandrini e del Media Museum, il Museo Nazionale del Cinema. Buon pomeriggio Luca, allora a che punto sono questi lavori? Buon pomeriggio Paolo, per citare il grande Galileo Galilei, eppur si muove, almeno verrebbe da pensare questo, nel vedere i movimenti di questa mattina in piazza Alessandrini, degli automezzi, delle gru, insomma pare che finalmente questo benedetto cantiere per la riqualificazione di piazza Alessandrini e della Media Museum sia partito. Dico pare Paolo perché noi questa mattina ci siamo recati sul posto per capire meglio, in realtà siamo ancora alle fasi preliminari della cantiere, si stanno effettuando dei sondaggi nel sottosuolo prima di far partire i lavori. Su questo abbiamo ascoltato Carla Tibboni, presidente della fondazione dell'associazione Premi Flaiano, che ci ha detto che questi sondaggi in realtà erano già stati effettuati sei mesi fa e non riusciva a darsi una ragione al fatto per il quale questi sondaggi venissero ripetuti. Verrebbe da dire sei mesi fa c'era un altro dirigente, ricorderete tutti la vicenda Trisi, quindi probabilmente al comune di Pescara hanno inteso rifare da capo i lavori. Sta di fatto che nella PEC ricevuta da Carla Tibboni nei giorni scorsi era specificato che da una certa data, dal 10 ottobre, sarebbe stata cantierizzata tutta l'area e che l'accesso agli uffici sarebbe stato consentito soltanto nella parte retrostante della struttura. Oggi siamo al 12 e siamo invece ancora ai sondaggi. Non vogliamo cercare ovviamente il pelo nell'uovo. L'importante è che questi lavori, Paolo, partano al più presto perché quella è una zona di grandissimo prestigio e va dato atto comunque all'amministrazione comunale di aver dato concretezza a un progetto di riqualificazione dell'intera area completamente abbandonata, luogo anche di ricovero per sbandati e per tossicodipendenti. Ecco, quantomeno da questo punto di vista i lavori ci saranno, anche se un po' a rilento rispetto a quanto previsto, l'importante è partire, in qualche modo anche qui citando un personaggio famoso. A te Paolo.